Buona giornata. Tutti gli sportivi hanno fatto e hanno compiuto e compiono grandi allenamenti. Immagina un tennista, quanto allenamento con quella racchetta in mano e con quella pallina da buttare nell'altro campo per poter giocare la sua partita, per poter vincere la sua partita. Quanti errori però fatti e negli allenamenti quanti errori in cui la pallina non entra nel campo oppure si ferma nella rete. È proprio vero, dai nostri errori possiamo imparare molto e possiamo anche trovare l'esperienza della vita stessa che ci può dare vita nelle cose che facciamo e che compiamo. Anche oggi faremo degli errori sicuramente, ma anche questa sera possiamo dire che cosa ho imparato per poter far sì di poter migliorare e avere quell'opportunità domani che sicuramente può essere diversa da oggi. Il Signore ti illumini e ti benedica sapendo che dei tuoi errori vuole creare la via per salvarti. Buona giornata.